tre motivi per cui Shiba Inu non potrà arrivare a valere un dollaro. Benvenuti su Cryptovaluta Italia, benvenuti in un nuovo video dedicato ad una delle meme coin preferite da voi cripto investitori. Naturalmente parliamo di Shiba Inu che mentre stiamo registrando il video si trova alla posizione numero 16 di CoinMarketCap per capitalizzazione di mercato ed ha un valore di 0,401212 dollari. Naturalmente non ci interessa la posizione e il prezzo attuale perché andremo in questo video a parlare di tre aspetti fondamentali che esulano dal prezzo attuale di Shiba Inu. Tre aspetti che come potete vedere sono reali e so che questo video farà storcere il naso ad alcuni di voi ma diremo delle sacrosante verità e queste verità nel corso del tempo potranno variare, potranno cambiare, quindi Shiba Inu potrà arrivare a valere un dollaro. L'unico modo è che queste tre cose di cui parleremo oggi verranno totalmente eliminate, questi tre problemi verranno eliminati e questa naturalmente è una cosa molto complicata che possa accadere ma rimanete collegati fino alla fine del video perché scoprirete di che cosa stiamo parlando. Prima di andare avanti vi ricordiamo che in basso in descrizione troverete tutti i bonus referral di benvenuto, i migliori bonus di benvenuto dei vari exchange per poter guadagnare criptovalute gratis e per poter naturalmente registrarsi in questi exchange ed investire in criptovalute, quindi comprare e vendere criptovalute o fare trading di criptovalute. Detto questo entriamo subito nell'argomento e parliamo del primo motivo per cui secondo noi Shiba Inu non può arrivare a valere un dollaro. Per poter conoscere il primo motivo ci basterà andare all'interno di CoinMarketCap analizzare il token di Shiba Inu e scorrendo qui in basso nella max supply, nella fornitura massima del token possiamo vedere che è un'offerta circolante pari a 549 bilioni di monete SHIB. Per capirci questi sono 278 milioni, per capirci questi sono 63 miliardi, per capirci questi sono i 549 bilioni, quindi 549 mila miliardi di monete e non sappiamo nemmeno qual è la max fornitura disponibile, quindi la fornitura massima non è nemmeno stata indicata. Per capirci Bitcoin ha una fornitura massima di 21 milioni di monete, quindi Bitcoin si ferma a questa cifra qui, qui su Shiba Inu abbiamo tutti questi bei numeri. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando hai una fornitura di questo tipo, un'offerta circolante di questo tipo, vuoi o non vuoi, il token è inflazionato. Quando il token è inflazionato e ce n'è tanto, evidentemente significa che chiunque potrebbe avere degli SHIB e chiunque potendo avere degli SHIB può andarli a comprare e li comprerà naturalmente a dei prezzi consoni alla fornitura massima, che è quello che vediamo attualmente. Considerando anche che il prezzo massimale di mercato di SHIB è stato di, lo troviamo qui in basso, l'all time high, eccolo qui, 0,4088, quindi comunque non si è avvicinato minimamente nemmeno al centesimo, capite bene, e lì parlavamo di un bull market incredibile in un momento di massimo splendore anche per il SHIB, capite bene che diventa molto complicato. Quindi il primo problema è proprio questo, ci sono talmente tante monete, ma talmente tante, che per poter arrivare a valere un dollaro dovrebbero sicuramente eliminare questi sei numeri, sicuramente. Ma io direi anche questi, ok? Cioè dovremmo andare a eliminare, secondo noi, secondo quella della nostra stima, questi numeri qui e arrivare comunque ad avere un'offerta circolante, una max supply di milioni di token e non certo di miliardi, ok? Ma sicuramente comunque toglietemi almeno questi tre. Ora naturalmente qualcuno dirà, ma ci sono i bar, eccetera, eccetera. Sì, ma non bastano, ok? Qui bisognerebbe cambiare totalmente la tokenomics, è una cosa molto complicata. Quindi vi garantisco che fin quando rimarrà questa capitalizzazione di mercato, vedere Shiba Inu ad un dollaro è qualcosa, non voglio dire al 100% impossibile, ma al 99,9% sì è impossibile. Il secondo motivo lo possiamo visionare all'interno di Market Cap Off. Infatti se io vado ad analizzare Shiba Inu e lo vado più che analizzare a paragonare a Bitcoin, che è la regina del mondo delle criptovalute, questo è quello che succede. Se Shiba Inu raggiungesse la stessa identica capitalizzazione di mercato di Bitcoin, Shiba Inu in quel caso farebbe un bel 62 per e quindi ce la ritroveremmo a un prezzo di 0,30752. Stiamo parlando che Shiba Inu va a pareggiare la capitalizzazione di mercato di Bitcoin, che è una cosa comunque impossibile che possa accadere, ok? Impossibile sempre al 99,9% mi tolgo quello 0,1% che comunque la certezza del mondo cripto al 100% non c'è mai. Ma è normale, se ripeto, se rimane tutto così in questo modo, in questa maniera, capite bene che nemmeno se raggiungesse la stessa capitalizzazione di mercato di Bitcoin potrebbe arrivare un dollaro. Questi dati sono fondamentali. Quando voi investite non state lì a pensare ah ok sto comprando Shiba 0,40, 12 e quando arriverà un dollaro sarò milionario. Su che base? Ragionate, ragionate anche su numeri come questo, ok? Che sono delle stupidaggini perché poi in realtà tutti lo possono fare un ragionamento di questo tipo, ma in molti non lo fanno e soprattutto ci sono tante altre cose da andare a visionare. Attenzione, non sono solo questi. Io vi faccio vedere tre motivi che sono comunque importantissimi e che sono alla base di un'analisi su un'eventuale previsione di un prezzo nel lungo periodo di una determinata cripto. Il terzo motivo è un'unione di due portali. Uno che noi generalmente non consideriamo mai proprio perché tendono a essere estremamente bullish nelle previsioni e come si fa a prevedere un prezzo nel 2031. Ma se un portale come Price Prediction che generalmente porta le cripto ad aumentare di valore anche in questo caso specifico, Shiba lo porta comunque ad aumentare sensibilmente e questo comunque sarebbe un ottimo risultato quello del 2031 perché chi investe oggi se va Shiba ad aumentare fino a questa cifra ha fatto un bel guadagno, però per capirci secondo Price Prediction il prezzo massimo che Shiba raggiungerà nel 2031 è di 0,3051,46 quindi non si avvicina minimamente nemmeno al centesimo. Quindi capite bene che questo è già un dato comunque importante da non sottovalutare. Inoltre i casi d'uso di Shiba Inu sono pochi in questo momento. Sì è vero stanno pensando di lanciare Shibarium che sarebbe un layer 2 per poter staccare poi Shiba magari da quello che è l'attuale visione che è una classica meme coin. Ma fin quando verrà lanciato dobbiamo attendere e capire anche come verrà lanciato. Ma anche qui in basso come potete vedere se andiamo a leggere un po' le notizie e vi andate a leggere comunque analizzare quello che che dicono su queste parole di CoinMarketCap su Shiba Inu capite bene che poi in realtà casi d'uso non ce ne sono tantissimi ok? Hanno creato il DEX ShibaSwap ma vogliono creare poi SHI che sarà una stablecoin algoritmica quindi comunque di novità importanti nel mondo delle crypto Shiba non ne ha portate questo è un dato inconfutabile ok? Quindi per poter far crescere naturalmente una crypto oltre quello che abbiamo visto ci devono essere dei casi d'uso ci deve essere una novità ha portato qualcosa di particolare ok? Ci deve essere la possibilità di avere comunque un mondo nel decentralizzato che ti permette anche di poter come in questo caso vogliono fare avere una stablecoin magari a lanciare un layer 2 come Shibarium avere diversi DEX diverse DAP e così via ma in questo momento c'è veramente poco quindi sì ok puoi fare all'interno di altre DAP puoi mettere il token stesso a rendita ok non in maniera esagerata però qualcosa di innovativo comunque all'interno proprio della blockchain del layer 2 che vogliono andare a creare poi ancora non c'è quindi fin quando non ci sarà parliamo del nulla cosmico perché parliamo sempre comunque di una crypto che è una meme coin ok? Che va benissimo cioè io so che oggi se devo andare ad analizzare questa è una cosa importante che ci tengo a precisare se io vado ad analizzare Shiba Inu io so che comunque è un caposaldo ormai dell'industria delle criptomonete insieme a Dogecoin perché se ce li ritroviamo comunque sempre nella top 20 alcune volte anche nella top 10 un motivo c'è quindi se io mi ritrovo Shiba Inu al sedicesimo posto e Dogecoin all'undicesimo significa che comunque ci sono persone che credono nel progetto e va benissimo e quindi probabilmente può anche ritornare magari al suo massimale storico quindi questi zeri magari rimangono ma invece di uno qua ci troviamo un bell'otto e facciamo un otto per ok? e ci sta la grandissima però se io devo andare ad analizzare il token nell'ottica di arrivare a un dollaro ecco io non lo vedo un dollaro noi oggi Shiba Inu non lo vediamo un dollaro ma siamo curiosi di capire cosa voi ne pensate? fateci sapere nei commenti secondo voi se Shiba Inu può arrivare un dollaro e come può arrivare un dollaro oppure se siete d'accordo con noi noi con questo video abbiamo terminato ci vediamo in un prossimo video ciao e a presto